Ciao a tutti da Mox e bentornati su HMC Magic Masters Ho montato un nuovo commander antipatico e geniale allo stesso tempo Siete curiosi di vederlo? Se avete visto il video di Omega della settimana scorsa saprete esattamente che il commander di cui sto parlando è un mono nero con Rancol come comandante Ho suddiviso il video in parti e vi farò vedere prima tutte le carte che hanno più sinergia con le abilità di Rancol Per chi non dovesse sapere che cosa farà Rancol vola a rapidità e ogni qualvolta infligge da un combattimento a un giocatore possiamo scegliere un qualsiasi numero delle sue abilità che sono ogni giocatore scarta una carta, ogni giocatore perde un punto vita e pesca una carta e ogni giocatore sacrifica una cattura Ovviamente far pescare il nostro avversario non è mai una buona idea quindi anche grazie ad Omega abbiamo strutturato il mazzo tutto intorno praticamente alle altre due abilità Adesso Rancol lo mettiamo qui e partiamo Bitter Blossom la conoscerete sicuramente tutti e come avete intuito è qui solo ed esclusivamente per creare pedine che possono essere tranquillamente sacrificabili Waste Not un simpatico incantesimo che va a braccetto con l'abilità di scartare di Rancol infatti ogni qualvolta un avversario scarta una carta creatura Waste Not ci crea una pedina zombie ogni volta che scarta una terra ci dà due mananeri e ogni volta che scarta una non terra o non creatura noi peschiamo Bone Miser una creatura che fa la stessa cosa di Waste Not con la piccola differenza che dice quando tu scarti quindi averle entrambe sul campo è molto interessante Spada di abbondanza e carestia mi piace un sacco abbinata a Rancol perché fa scartare l'avversario quando la creatura equipaggiata implige danno in più ci stappa tutte le lande Grimorio di Get un bellissimo artefatto che dice che quando un avversario scarta noi possiamo pescare Plasma Contagio questa che è una delle mie carte preferite ovvero dettami di Erebos Incantesimo con Flash dice che ogni volta che una nostra creatura muore ogni altro giocatore sacrifica una creatura per cui l'attivazione dell'abilità di Rancol noi con Flash possiamo giocare questo e viene su una porcata ragazzi infinita Fatto Sepolcrale uguale ai dettami solo che non ha Flash Layline del nulla perché se posso farti esiliare tutto invece che fartelo solo scartare è meglio in più c'è anche una simpatica combo infinita che dopo vedremo Bloodgast ovvero io sono qui solo per essere sacrificato con Rancol e ritornare ogni volta che appoggi landa Schenetro riassemblato stessa cosa del Bloodgast Schenetro dei fulmini utili per dare velo a Rancol o un'abilità a una delle qualunque altre creature che giochiamo Arena di Firexia perché è il peschino più bello dei mazzi neri quindi bisogna metterlo per forza O Fiumante all'inizio di ogni mantenimento se non controlliamo pedine serpenti ci metto una pedina 1-1 con tocco letale Seed Easy molto utile perché innanzitutto è grossa e a tocco letale a sfruttare e quando sfrutto una creatura ci fa da tutore però la cosa interessante è che puoi entrare, sfruttare te stessa, andare al cimitero e poi in qualche modo possiamo rianimarla e fare questo giochino di continuo Simulacro Solenne, Dark Confident perché è sempre bello pescare più degli altri Ayara prima di Lockevenna, come avrete notato in questo mazzo perdiamo un sacco di punti vita quindi lei ce li fa recuperare tutti in più possiamo anche tappare e sacrificare un'altra creatura e pescare Dreadhorde Invasion, un altro incantesimo simile Bitter Blossom solo che mette le pedine zombie con Amas zombie che quando sono dei 6-6 hanno anche travolgere Titano Sepolcrale, un ciccione con tocco letale che spama pedine zombie utili per essere sacrificate E infine il Proxino di Shealdred, se avete visto sempre il video di Omega della settimana scorsa, nel caso è qui sotto in descrizione saprete che non mi è mai arrivata la Shealdred che stavo aspettando quindi per farvi questo video mi sono arrangiata un po' come meglio potevo Lei è un 6-6 a costo 7 con passapaludi che a ogni mantenimento ci rimette dal cimitero una creatura e al mantenimento di ogni avversario quel giocatore sacrifica una creatura quindi ottima ad esempio per rimettere Sidisi Presenza terrificante, ogni qualvolta entra una palude possiamo scegliere se perdere un punto vita e pescare una carta o farla infliggere due danni a un bersaglio e guadagnare due punti vita Rick figlio di Yavmot, io quando ho visto sta carta ho detto no, devo usarla da qualche parte Ci fa pagare il malanero come se fosse malanifirexia Alifling si inciccionisce quando lanciamo magie nere per cui ci fa recuperare tutti i punti vita persi per castare le cose Sussurratore del fato e Vilis intermediario di sangue, un bel ciccionazzo 8-8 con volare che pagando un malanero due punti vita da meno uno meno uno a una creatura a bersaglio fino a fine turno Ovviamente se paghiamo più mani più vite da più segnalini meno uno meno uno a una creatura fino a farla morire In più ogni volta che perdiamo punti vita peschiamo altrettante carte con lui Sac! Queste sono le cose che invece ci permettono di mettere cose al cimitero per rianimarle Entomb che ci fa mettere una carta al cimitero e Boyle Alive che ci fa mettere fino a tre creature al cimitero Cose che poi rianimeremo con Animate Dead, Necromancia che possiamo scegliere se lanciare come Instant oppure come incantesimo aura normalissimo Dance of the Dead, rianimo una creatura dandole un segnalino più uno più uno Però la rianima tappata e noi al mantenimento dobbiamo pagare due per stapparla E Reanimate E ora qua vi chiederete ok ma tutte queste ciccionazzi e cose come le giochi con le 35 landa di esposizione Di cui 22 paludi innevate poi vedremo perché Pebble Passage è una fece che fa sempre comodo Castello di Loctevenna non sai cosa fare tappa tra i peschi Ferexian Tower ci dà male in colore e doppio manane rosse e sacrificiamo una creatura Cappanna della strega quando entra stappata ci rimette in cima dal cimitero una creatura bersaglio Niktos che conoscerete sicuramente tutti Bojuka Bok quando entra esiliamo un cimitero Una bellissima strip mine mangiata dai rinoceronti Ancient Tomb Cabal Stronghold Tappando 3 tappandola ci dà un mana nero per ogni palude base che controlliamo Urborg che aggiunge il tipo palude a ogni altra landa Cabal Coffers Tappiamo 2 la tappiamo ci dà un mana nero per ogni palude che controlliamo Quindi con Urborg è la morte sua Tempio Abbandonato Tappiamo 1 lo tappiamo Stappiamo una terra bersaglio Ad esempio la Cabal Coffers per fare una valanga di mana Infine Crypta di Agadem Tappando 2 tappandola ci dà un mana nero per ogni creatura al nostro cimitero Ovviamente giochiamo anche un bel reparto di carte che ci danno un aiuto col mana Extra Planar Lens Arcane Signet Crypt Ghast che ha estorsione In più ogni qualvolta tappiamo una palude lui ci aggiunge un mana nero in più Mappa della spedizione Ovviamente Sol Ring Mana Vault Jet Medallion Le nostre magie nere costano 1 in meno Top Vessel Non abbiamo un limite di carte in mano e ci dà mana in colora E Cervo Brunito Passerei a parlare dei Planeswalker che Poverini sono soltanto 2 poveri miseri Sorin Markov più 2 facette di Sorin Meno 3 i punti vita di un giocatore diventano 10 Meno 7 controlliamo il turno di un giocatore L'idea Dark Reams Più 1 cerchiamo una palude la mettiamo in mano Meno 3 una creatura prende più x più x O meno x meno x Dove x è il numero di paludi fino a fine turno ovviamente Meno 6 ci crea un emblema che dice che ogni volta tappiamo una palude Invece che darci un mana ce ne dà 4 E adesso passerei alle cose un pochino più belle del mono nero Gli spacchini Dead of Winter ovvero il motivo delle paludi innevate Tutte le creature non neve prendono meno x meno x Dove x sono i permanenti neve che controlliamo Toxic Delage anche lei dà meno x meno x a tutte le creature Ma x è pari ai punti vita che paghiamo quando la lanciamo Force of Despair è carina perché comunque è un vrattino a instant Cavalcante Omicida molto carino per fine repentina Distruggiamo Prince Walker o creature paghiamo 2 punti vita E poi è un 2-3 con legame vitale che quando muore ci torna in fondo al grimorio Quindi possiamo andarcela a tutorare quando ci serve Fatto del massacro Caduto dell'eroe Identico a fine repentina tranne che non perdiamo 2 punti vita E la sempre classica damnation Un altro punto saldo del mono nero sono appunto i tutori E qui abbiamo Visit the Queen che ho trovato in mezzo alla fuffa Lasciamo stare Il Vampiric Tutor in coreano che è bellissimo Diabolic Intent E Tutore demoniaco E a questo punto vi direte Ok ma tu coi tutori Che cosa tutori? Hehe Orment of Vailfire Ottima anche come chiusura alternativa Per non chiudere per forza di aggro In più con tutto il potenziale mana che possiamo fare Direi che una bella torment ci sta sempre Cittadella di Bolas Mercante grigio di Aspodelo E' utile perché ci fa reguadagnare un botto di punti vita in una volta sola Perché appunto quando entra ce ne fa guadagnare pari la nostra devozione al nero Serbatoio di Eterflusso Anche lui ci fa guadagnare una valanga di punti vita e pagandone 50 spariamo 50 danni a una creatura o un giocatore Malizia del demonietto cambia il bersaglio di una magia con singolo target Noi perdiamo punti vita pari al costo di mani con la magia ma intanto ci siamo salvati qualcosa Dilemma doloroso Che in realtà è un palo nel culo e quindi è per quello che è doloroso Infatti ogni volta che un avversario lancia una magia Questo poveretto deve pensare se farsi infliggere 5 danni dal dilemma doloroso o scartare una carta K delle profezie Contamination All'inizio del mantenimento dobbiamo sacrificare una creatura o sacrificare contamination E ogni landa produrrà un mana nero invece di ogni ammontare il tipo di mana che quella terra potrebbe produrre Necropotenza Perché dai in mono nero vuoi non giocare la necropotenza E ultimo ma non per importanza elmo obedience Tappiamo x e lo tappiamo Maciniamo le carte di un grimordio di un avversario Finché al cimitero non vanno o x carte o una creatura E qui si innesca la combo infinita Infatti cosa succede con le line del nulla? Tutte le carte vanno esiliate Quindi non ci sarà mai nessuna carta al cimitero E noi pagando uno con l'elmo continueremo a macinare Perché nessuna carta andrà mai al cimitero E quindi l'abilità dell'elmo non si risolverà mai Con un mana e due pezzetti in campo maciniamo un grimorio Ovviamente l'elmo va giocato con la leyline in campo da solo e assolutamente inutile E quindi questa è la terza chiusura del mazzo Quindi avete visto questo mazzo è molto particolare Perché da un lato orancolo è fondamentale Dall'altro può essere anche lui una utility per arrivare a una cosa molto più grande Se avete suggerimenti o modifiche mi raccomando noi li aspettiamo qua sotto nei commenti scriveteli Se vi è piaciuto lasciate un bel like E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate la campanella In modo tale da non perdervi i nostri prossimi video Passate anche a trovarci sulla pagina facebook Dove trovate tante tante notizie in più su di noi Novità, aggiornamenti lampo E nel caso voleste fare una donazione qui sotto in descrizione c'è il link per farlo In modo tale potrete richiedere su facebook un video non censurato Detto questo vi mando un grosso bacio Ciao dalla vostra Moxi Alla prossima